Per i clienti oggi è molto facile avviare una conversazione, più difficile è invece seguirla ovunque si svolga. Con Genesis i clienti possono avviare conversazioni su qualsiasi canale e farle proseguire in ogni situazione, persino se è necessario un cambio di canale quando sono ancora in corso. I clienti possono cambiare canale quando la situazione lo richiede, passando da una semplice interazione chatbot a una live chat con una persona reale, o da una live chat a una chiamata telefonica, o persino da un messaggio rapido su Facebook a un'email dettagliata. Ovunque si svolga la conversazione non verrà mai interrotta e gli agenti possono gestire tutto da un'unica schermata. Con un desktop omnicanale, gli agenti possono passare da un canale all'altro e seguire l'intera cronologia della conversazione dall'inizio alla fine, così da avere sempre i contatti utili per risolvere qualsiasi problema. Con Genesis puoi offrire ovunque ai tuoi clienti un'esperienza coerente e costante, adottare un bot basato sull'intelligenza artificiale in meno di un'ora e servirti dello stesso bot mentre utilizzi la web chat, la voce e altro ancora. Sarai sempre informato ogni volta che interagisci con i tuoi clienti, in modo da poter creare ottimi collegamenti e mantenere viva la conversazione, ovunque ti porti. Questa è la semplicità dell'esperienza omnicanale, questa è Genesis.